Si può vedere quel grande salto in avanti con le gambe di varicate che ha effettuato in una prima volta da Lili e la seconda volta dal coppo di petto. Siamo ancora alla trave fuori gara ma qui c'è... Francesca Benolli. Nel suo grande giorno, peccato, sfortunata, lei di Trieste contro i 17 anni, rientra dopo quasi un anno e mezzo. Deve anche ritrovare una buona forma fisica. La trave non concede distrazioni e soprattutto vuole quasi la perfezione fisica. Ricordiamolo, Francesca Benolli è fuori gara. Un anno e passa di assenza, si fa sentire. Eccoci in chiusura. Tempo preoccupata sicuramente per questo finale.